I professionisti più esigenti della cosmetica li accontenta Show Makeup by Fabio De Stefano. L'azienda si occupa di servizi nel campo del trucco e della distribuzione di una linea altamente tecnica creata sia per il settore professionale che per l'utente finale. Il direttore creativo che ha ideato la linea è Fabio De Stefano, make-up artist tra i maggiori esperti del settore, che vanta un'esperienza di oltre 20 anni nel mondo del cinema, della televisione e della moda. Questa forte esperienza lo ha portato a creare la linea Show Makeup, studiata per i grandi professionisti del settore e con qualità e texture eccellenti. Ampia la scelta dei colori e ha curato il modernissimo progetto di packaging volto a soddisfare le esigenze di stile ed emozionali dell'utente finale più pretenzioso. Ogni prodotto è testato minuziosamente per verificarne l'effettiva qualità applicata e l'ottenimento del risultato desiderato, in modo da rendere il lavoro del professionista di trucco ancora più ottimale e una garanzia di qualità riconosciuta. L'azienda propone anche corsi di formazione per ogni livello di apprendimento, dalle conoscenze base alle specializzazioni nel campo del make-up e della bellezza, trucco professionale, trucco performante, ricostruzione unghie, body painting, trucco airbrush, master per la sposa ed effetti speciali. In occasione di Cosmoprof l'azienda propone Mea Cura, una linea di biotecno-cosmeceutici, inserisce sostanze biotecnologiche ad altissima concentrazione, rese biodisponibili da veicolanti di ultima generazione, per una pelle realmente ringiovanita, non solo a livello visivo ma in ogni suo costituente, a seconda delle tre tipologie di età, 18-35, 35-50 e oltre 50 anni. Questa è la grande novità unita alla nuova tecnologia a disposizione dell'estetica professionale, con due azioni distinte. La prima, analisi scientifica della cute attraverso la spettranza a risonanza stocastica. La seconda, la veicolazione transdermica su specifico recettore di membrana con magneto veicolatore a campi magnetici pulsati. Il direttore tecnico di queste soluzioni è Gian Mario Cito, da 25 anni ormai in questo settore. Show Makeup, tutta l'efficacia e l'energia di prodotti professionali per il trucco di altissima qualità. Grazie. 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 Grazie.